buongiorno a tutti buongiorno a tutti voglio ringraziare di questo video fabio d'angelo che ieri mi ha detto aspetta domani per dire un qualcosa su questo schifo su questa partita che facciamo letteralmente pena però aspetta domani aspetta domani perché ieri sera non avrebbe avuto senso e poi era era giusto fare i complimenti a chi ha vinto il campionato anche sia schifo e peggio di calciopoli comunque comunque sei diventato hashtag ciò che hai sempre odiato questo è l'hashtag di quest'estate io voglio chiamare questo video se io ho lavorato se se pioli ha lavorato bene io sono rocco siffredi così chiamerò questo video se pioli ha lavorato bene io sono rocco siffredi perché facciamo una stretta una stretta analisi della stagione guardando non solo i risultati ma anche quello che ne consegue fuori dalla champions a novembre fuori dal mondiale per club in coppitalia eliminati al primo turno in champions uno schifo in campionato meno 17 a novembre emergenze infortuni poi cambi osceni approcci di m cambi osceni squadra che non azzecca due passaggi formazioni sbagliate cambi di merda e altro schifo questo è lavorare bene questo è lavorare bene hashtag se lui ha lavorato bene io sono rocco siffredi ieri è stata consumata la più grande vergogna della storia del milano è la prima volta in tutta la storia del calcio che viene assegnato uno scudetto in un derby in tutto il calcio specie quello italiano uno schifo siamo arrivati al decimo derby perso in cinque anni di cui sei consecutivi tutti per manifesto tutti per manifesto tutti per manifesto in fiorità tutti perché fai schifo questo caro ste non è stato un derby equilibrato non è stato il più equilibrato è stato uguale i denti con gli altri l'inter il primo tempo poteva stare 4 a 0 se lautaro non sbagliava un gol a porta vuoto se se turam non se ne mangiava un altro ma io voglio anche dire una cosa squisitamente tattica squisitamente tattica il piano iniziale non era neanche del tutto malvagio non gioco con la prima punta e gioco con i contropiedisti veloci ma allora perché il contropiedista migliore che c'hai ovvero a destra ciuguezza in banca 1 2 leao la prima punta non l'ha mai fatta in vita sua mai 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 io non l'ho mai visto fare la prima punta uno schifo perché la palla davanti non la teneva nessuno vedere musa musa fare l'esterno il trequartista dei tre l'esterno dei tre trequartisti è un insulto per chi studia per prendere i patentini e io ribadisco e sottoscrivo se sabato vedo ancora musa in quel cazzo di ruolo io mi alzo e me ne vado la partita non la guardo ovunque io sia perché fammi prendere per il culo da ste io mi sono rotto le palle perché forse stefano pioli pensa di star con matte con gli scemi pensa di stare avendo a che fare con gli stronzi con gli imbecilli beh ste spese con me non attacca perché dire io farò le mie valutazioni è un insulto è un insulto perché se dobbiamo fare noi le nostre valutazioni ste per me saresti stato mandato a fangulo già dopo il derby d'andata abbiamo preso lo stesso identico gol della semifinale con zeko chi lo marcava a cerbi la cosa più grave sapete qual è che se non segnava a cerbi c'era turam uno schifo sulle palle da fermo e questo è lavorare bene un calcio d'angolo battuti a cazzo di cane questo è lavorare bene non avere uno straccio di reazione tra nell'ultimo quarto d'ora per disperazione per far la mossa e rovinarsi la partita successiva questo è lavorare bene questo è lavorare bene questo è lavorare bene quando tutti i calciatori che cambi ti mandano a fanculo quando adri tira un calcio al coso di plastica alla panchina perché schifato e non ridito dal cambio questo è lavorare bene è lavorare bene quando la squadra in casa entra dopo di quella in trasferta questo è lavorare bene questo è lavorare bene quando a sassuolo ognuno entra per i cazzi propri questo è lavorare bene io ho ancora qualcosa da dare a questa squadra no tu stai non hai più un cazzo da dare non hai più niente da dare non te voglio più vedere non te voglio più vedere perché e ringrazio se adl ti porta a napoli ma se adl ti dovesse miracolosamente portare a napoli alla prima emergenza infortuni cambio scene e altro schifo la prima volta che metti la squadra ande capocchiam ti manda a fanculo chiaro 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 ieri è stata un'umiliazione quella tifosa che ha detto io non voglio più vedere stecola sulla panchina del milan e non voglio più vedere rafale au in campo con la mia maglia ha perfettamente ragione non so che essa sia ma è una idola è una idola perché ieri avete fatto piangere un bambino avete fatto schifare e non ridire uno stadio indietro vi siete fatti prendere per il culo perché l'inter neanche senza forzare più di tanto il primo tempo poteva stare 4 a 0 e non c'era niente da obiettare vi hanno letteralmente ridicolizzato non è stato un derby equilibrato è stato uno schifo stec e tu lavori bene tu lavori bene mettendo la squadra a cazzo di cane mettendo giocatori fuori ruolo ma come cazzo si fa mettere ancora calabria a centrocampo come cazzo si fa questo è lavorare bene far uscire renders questo è lavorare bene fare una formazione e stravolgerla ogni volta questo è lavorare bene io ve lo chiedo ogni volta questo è lavorare bene se questo è lavorare bene io sono Rocco Siffredi enjoy sto cazzo come diceva Rocco perché non ci siamo divertiti un cazzo quest'anno abbiamo solo ingurgitato schifo e questo è lavorare bene questo è lavorare bene non ammettere mai i propri errori questo è lavorare bene non saper marcare su ogni cazzo di calcio d'angolo questo è lavorare bene e lavorare bene non batterne mezzo in maniera decente manco se piove non saper battere un calcio d'angolo manco se piovesse questo è lavorare bene ieri io devo tenere gli occhiali perché anche stavolta come già sapevamo non si sarebbe dormito non avevamo speranze ieri nessuno ci credeva nessuno l'unica cosa che salvo è la coreografia della curva ma neanche la curva ha le sue colpe perché ora e prima bisognava contestare bisognava chiedere la cacciata di questo allenatore adesso hashtag o lui o lui o noi o se ne va a fancuro o viene esonerato o non ti fiamo più semplice io sto attivando paypal per le donazioni per andare là incatenarmi a san ziro e chiedere la fine di questo schifo la fine di questo lavoro per bene che dobbiamo ringraziare dio bologna e atletico madrid o il lavoro per bene era un triplete grazie bologna e atletico madrid che hanno eliminato l'inter dalla coppa italia e dalla champions o il lavoro per bene o io lavoro bene era il triplete nero azzurro io non riesco a dire altro perché tranne il gollo sceno preso da mike mike ha preso un gollo sceno veramente un gollo sceno veramente un gollo sceno ma non solo lui perché erano in tre su turam erano in tre così come prima del calcio d'angolo si vede mike che sta nella nella terra di nessuno tra la porta e l'area piccola perché non si fida della difesa uno schifo questo è lavorare bene ste io ribadisco chiudo sto video del giorno dopo dicendo se pioli lavora bene io sono rock così freddo vaffanculo ste e grazie ancora per questa stagione di merda ciao a tutti